Il reparto Covid dell'ospedale unificato di Broni Stradella è stato chiuso e il presidio di ASST Pavia è stato dichiarato nuovamente Covid-free. Era già accaduto come noto nel giugno del 2020, al termine della cosiddetta prima ondata della pandemia, ma con l'avanzare della seconda ondata, ad ottobre l'ex azienda ospedaliera era stata costretta, dopo Vigevano Voghera, a riconvertire ancora anche due reparti di questa struttura, medicina prima e riabilitazione poi, alla cura dei pazienti contagiati dal nuovo coronavirus. Nel mese di novembre i pazienti ricoverati qui avevano raggiunto le 45 unità. Si trattava in prevalenza di persone con patologie non gravi. Questi, secondo gli accordi, venivano e vengono tuttora destinati ai due hub della rete e al Policlinico San Matteo di Pavia, oltre che alla rete delle strutture private convenzionate presenti sul territorio. Oggi, in totale, nella rete dell'ex azienda ospedaliera sono curate 127 persone, di cui 11 nelle due terapie intensive presenti a Voghera e Vigevano. La riapertura dei reparti ordinari di medicina a Stradella, ha fatto sapere l'azienda, risponde alla necessità di riattivare gradualmente i percorsi di cura sospesi a causa dell'avanzare del Covid-19. Il risultato è stato salutato con soddisfazione dal primario di medicina Giovanni Ferrari, che ha comunque sottolineato come la battaglia continui e sia necessario continuare a tenere alta la guardia. Considerato l'andamento della curva dei ricoverati dei pazienti affetti da Covid-19 nel nostro territorio, quindi nel nostro ospedale, vista anche la necessità di ampliare la capacità ricettiva per i pazienti con patologie non Covid, soprattutto patologie di area internistica, nel nostro ospedale è stata presa questa decisione a livello aziendale, il nostro ospedale proprio da oggi ha riconvertito nuovamente in reparto di medicina interna e quindi da oggi il nostro ospedale è da considerarsi Covid-19.